Ciao X Factor Italia Ciao Alvaro Sono Aurora Io mi chiamo Marco Edoardo Giulio Io vengo da Asti Modena Luca Napoli Benevento Brindisi Vi faccio vedere la mia stanza La mia camera è veramente piena di cose Qua scrivo, qua faccio un pochino tutto insomma Questo è il mio gatto che si chiama Nora Quelli sono dei cartelloni che hanno fatto i miei amici Per fortuna con la mia tastiera Qui c'è una cosa importantissima Il mio microfono Passo la maggior parte delle giornate C'è qualche modifetto in testa E qui che prende vita Posso scrivere canzoni Mi dà una carica pazzesca Il canto in questo mi sta aiutando veramente tanto La musica è parte di me Mi metto su musica e parto per dei viaggi Che sono lontanissimi anche se sto dentro casa mia Senza la musica probabilmente a quest'ora sarei già in pazienza Il fatto che non ci si possa neanche abbracciare È dura La prima cosa che farò Sarà andare ad abbracciare mia nonna Punci E la mia ragazza A casa ci possono fare un migliaio davvero di cose Il messaggio che vi voglio lanciare è di non smettere mai di crederci Questo secondo me sarà solo un brutto ricordo Il vero 2020 inizierà proprio dalla fine di questa quarantena Il vero 2020 inizierà è di non smettere mai di crederci Il vero 2020 inizierà è di non smettere mai di crederci Il vero è di non smettere mai di crederci